Allora siamo con Silvia Giovanardi, responsabile del settore giovanile dell'Imoco Volley, intanto buongiorno, bentrovata, che cosa significa essere responsabili di un settore giovanile, di un sistema importante come quello dell'Imoco, che prende tutto il Veneto orientale, che però ha acquisito una serie di collaborazioni? Sicuramente è qualcosa di molto gratificante, perché a differenza di altre zone comunque d'Italia, il Imoco è un punto di riferimento per tanti ragazzi e ragazze che fanno pallavolo, quindi si sente un po' la responsabilità anche di diffondere questo sport, che soprattutto nel femminile rimane probabilmente lo sport più bello che ci sia. È un grande sforzo organizzativo perché è vero che la punta dell'iceberg è sicuramente la prima squadra in cui tutti noi mettiamo tantissime risorse, ma fare settore giovanile è molto più complicato di quello che uno possa pensare per tutte le attività che bisogna organizzare, per gli incentivi che bisogna dare, per l'aiuto e l'assistenza che bisogna dare alle famiglie, quindi tanta responsabilità ma anche tante gratificazioni. Ed una gratificazione è anche il marchio di qualità che abbiamo qui alle sue spalle, il certificato di qualità oro, di cosa si tratta? Sappiamo che poche società in Italia hanno questa certificazione. Sì, ce l'hanno pochissime società, in Veneto se non sbaglio solamente noi, in particolare il nostro settore giovanile che è rappresentato dal San Donà, che è una società che ha 60 anni e ha i vertici della pallavolo giovanile italiana da tanti anni, e dal San Paolo. Ma è una certificazione abbastanza importante, nel senso che è una certificazione che sulla base è stata data a tante società, ma poi nelle sue, diciamo, nelle parti alte con la certificazione argento ma soprattutto con la certificazione oro è stata data a pochissime società in Italia. È un marchio che viene dato sicuramente per la qualità del lavoro, ma anche per il numero di ragazzi o ragazzi coinvolti nell'attività, perché, ripeto, se al vertice le cose vanno bene vuol dire che la base è numerosa e ha della qualità, perché altrimenti lo stesso vertice non avrebbe, non avrebbe risultati che sta ottenendo. Anche per i Moco comunque è molto importante perché il fatto di coinvolgere sia qualitativamente ma anche quantitivamente tante ragazze vuol dire fare amare la nostra prima squadra. Quindi non solo il sogno di portare qualche ragazza soprattutto del Veneto in prima squadra, ma anche il fatto di avere ieri in una sfida di cartello come quella di Scandici che ci ha visto vittoriosi per 3-0, 1900 ragazzine provenienti da tantissime società delle Friuli, del Veneto, ma anche dell'Emilia Romagna, della Toscana. Quindi tanto coinvolgimento e tanto amore anche per il vertice. Certo, naturalmente le ragazze, le atlete che sono al vertice sono di fatto le beniamine delle ragazzine delle nostre squadre locali. Ecco, so che avete costruito una bella rete, come si diceva, una rete che non è solo nel Veneto orientale verso il Friuli ma anche verso il Veneto occidentale, in particolare questa alleanza con Volley San Paolo-Vicenza di Songru. Sì, è un progetto, sicuramente si è iniziato a lavorare già dagli anni scorsi, da quest'anno è partito questo progetto che si chiama i Moco Volley School, che non è altro che un insieme di servizi che si vogliono dare alla società che si sono affiliate, tra cui soprattutto dei seminari e dei corsi tecnici. È un modo che ha i Moco, grazie anche alla sua rete di allenatore e di dirigenti, di trasferire delle proprie competenze anche alle società, diciamo, più piccole. Non mi piace dire minori perché ci sono società più piccole però che comunque hanno già tantissime esperienze e tantissimi numeri. Quindi dare degli strumenti per lavorare sempre meglio, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, quindi portando tantissime ragazze in palestra a fare pallavolo. E questo è un bellissimo auspicio direi? Sicuramente perché ricordiamo che la pallavolo femminile in Italia è il primo sport a livello nazionale. Sicuramente se abbiamo le Mirian Silla o le Monica De Gennaro o l'Anna Danesi è perché queste ragazze hanno iniziato a giocare a pallavolo quando erano giovani, hanno fatto comunque pallavolo molto presto, l'hanno fatto qualitativamente in maniera ottima e quindi hanno potuto raggiungere i livelli a cui sono adesso. Poi ci vuole tanto anche del loro perché la differenza tra giocare e diventare campioni sappiamo che è tantissima, però il fatto che abbiano potuto farlo sino a quando erano ragazzine sicuramente è stato l'inizio di un bel sogno. E Silvia Giovanardi ora cosa farà? È arrivata in una società che è ai vertici delle classifiche sia per quanto riguarda il nostro paese sia per quanto riguarda le coppe europee? Guarda, Imoco penso che è una società molto giovana perché se guardiamo ci sono società come San Paolo che sicuramente hanno più anni però è una società che in pochissimi anni grazie anche a due presidenti che ci credono tantissimo, che sono giovani e che hanno avuto voglia di investire in questo sport, sta arrivando sia a livello organizzativo che tecnico ai vertici della pallavolo mondiale. Noi siamo molto contenti, siamo contenti di questo ma siamo anche contenti di avere sotto una serie B1 con quasi tutte ragazze under 18, la maggior parte addirittura under 17 e di avere essere vice campione d'Italia under 16, cioè l'entusiasmo che circonda questo diciamo meccanismo e soprattutto che fa portare avanti questi progetti ai miei presidenti a Piero Garbellotti a Pietro Massio non è solo la prima squadra ma è anche tutto quello che è stato creato intorno in questi pochi sette anni di vita. Grande soddisfazione per Siglia Giovanardi direi. Tantissimo, io faccio questo mestiere da tanto tempo, sono partita da... Io sono modenese e chi non conosce il territorio di Modena non può capire perché noi... Io ho giocato a pallavolo, ho fatto anche professionismo, però noi nasciamo perché frequentiamo i pallasporti a vedere pallavolo, non vedere calcio, vedere basco ma vedere pallavolo quindi è sicuramente stata una crisi professionale per me e devo dire che io sono stata sette anni alla Foppa Pedretti Bergamo che è un'altra società delle più storiche che ha fatto benissimo la pallavolo italiana, sono arrivata in una società nuova, pensavo di dover costruire, in realtà si è dovuto solamente migliorare una base che era già eccezionale. è un'altra società che è molto... affidata in un'altra società che trovi ho fatto